Io mi chiamo Paola Oliveri e faccio l'architetto. Io ho saputo di questo evento perché sono in contatto e sono iscritta al gruppo di Wine Connection di Patrizia Setteeducati e quindi quando ho saputo che c'era un evento di questo tipo ho voluto partecipare. Ho deciso di partecipare perché tutti gli eventi di Patrizia sono sempre una grande opportunità di crescita. Ma è cambiato una nuova percezione di me stessa, mi sento più completa e sento che la comunicazione proprio con me stessa e con gli altri è più chiara, più intensa. Io mi porto a casa Paola, Paola che ha già tutto dentro di sé e che non ha bisogno di niente altro e è successo anche che ho vissuto senza valigia per quattro giorni e questa metafora mi ha dimostrato che non avevo bisogno di cose in più ma che era tutto dentro di me e ce l'ho fatta anche senza valigia e senza le cose materiali che pensavo di dovermi portare e di dover usare. Ma ovviamente lo applicherò nelle cose di tutti i giorni nel mio rapporto con la mia famiglia, con gli amici, con le persone che conosco perché diciamo che questa nuova me ormai non resterà con me a prescindere. Ma io ho visto che non stavo vivendo la mia vita al 100%, mi stavo creando delle costrizioni o per mancanza di tempo, di organizzazioni soprattutto per mancanza di tempo e invece ho compreso che si tratta di fare una scelta e io sto scegliendo di avere il tempo di fare le cose che mi piacciono e che mi fanno stare bene, sono tante. Di sicuro ricomincerò ad andare in barcavela che era una di quelle cose che avevo rinunciato ma nonostante io abbia la patente nautica e fare un'escursione in Catamarano mi ha ricordato l'amore che ho per esempio per questa attività, di sicuro ricomincerò a fare attività fisica, sportiva che era una cosa che avevo cominciato un po' a trascurare e invece voglio riportarla al 100% nella mia vita perché le attività nella natura con il corpo sono una cosa che mi fanno stare bene. Felicità, una grandissima felicità. Grazie Patrizia perché con te si vivono sempre delle esperienze indimenticabili e grazie a te la mia vita è cambiata già da tanto tempo e spero che tu possa aiutare altre persone a cambiare e ad essere felici e vivere felici come sei riuscita a farlo con me.